L'associazione Art for Sport è un'associazione on-bus che si occupa di bambini con disabilità. Ci occupiamo di far fare sport a bambini, in particolare con amputazioni o con mancanze di arto. Quindi qui stasera si parla di integrazione, si parla di far giocare dei bambini con disabilità, insomma bambini che non ne hanno, e anche adulti. E vedrete gente che c'ha qualche peggio di meno. Insomma, il bello della serata è far giocare insieme queste persone, c'è anche lo scopo dei giochi senza barriere e dell'associazione Art for Sport. Quindi grazie mille per essere qua tutti. Io faccio subito due ringraziamenti veloci, dovuti. Teresa ha citato la ragione, abbiamo il Comune che ci ha dato una grande mano, vorrei citare subito i media partner che ci stanno dando veramente un grande abito, e ci hanno dato una grande mano. Il gruppo RCS, Corriere, Gazzetta, Fondazione Cannabot e Gazzetta TV, perché comunque hanno fatto una grande comunicazione, l'hanno seguito in queste ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi possiamo dire, l'evoluzione dei giochi, ci hanno veramente spinto moltissimo, siamo molto contenti di questa collaborazione. E l'altra è stata la Radio DJ. Non so se voi avete sentito gli spot che hanno fatto in queste ultime settimane, hanno pompato veramente tanto. Oltre a poi a Alma Creativa, a Sky, la televisione di Sky, stasera c'è Sky, Fabio Tavelli che insieme al VOF presenterà la serata, e la Lia Capizzi che ora non so bene dove sia, che sta facendo delle dirette. Abbiamo ogni mezz'ora una diretta di alcuni minuti. Quindi siamo anche in diretta televisiva. Quindi basta con ringraziamenti, direi che noi possiamo cominciare ad andare e lasciando la parola ai due presentatori. Grazie.